Ora abbiamo un ospite con noi, diamo il buongiorno al Presidente del Comitato Rete, Manuel Radelli. Manuel, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a te, ti abbiamo contattato per parlare di questo sit-in che avete proprio fatto ieri in Via Marinai d'Italia dopo gli ultimi fatti accaduti, anche un incendio, uno scooter incendiato. Com'è la situazione? Allora, sostanzialmente nella notte tra il 6 e il 7 luglio si è verificato l'ennesimo incendio in Via Marinai d'Italia, è stato dato alle fiamme uno scooter di un residente che tra l'altro abita lì da pochi mesi. E' l'ennesimo incendio della zona perché siamo arrivati a contare nella sola via sette incendi negli ultimi mesi, mentre per quanto riguarda il quartiere farnesiano gli incendi sono una dozzina negli ultimi mesi. Sono atti vandalici? Sì, sono atti vandalici dei roghi dolosi e di un piromane, a questo punto un criminale, che non si fa scrupoli a dar fiamme e dar fuoco agli oggetti che trova. Ricordiamo che sono successe le medesime situazioni anche in altre zone della città. Sì, sì, sono successe appunto anche panchine incendiate, probabilmente, forse potrebbe essere la stessa persona, visto che è successo in più punti. Voi avete richiesto attenzione su questi fatti ieri? Sì, ieri sostanzialmente ci siamo trovati con i residenti per discutere un attimo della situazione che è fuori controllo e abbiamo dato vita a un sit-in insieme a loro, con uno striscione che recitava non siamo cittadini di serie B. Stiamo richiedendo attenzione delle istituzioni che comunque pare che siano cieche davanti a tutto questo. Stiamo richiedendo un presidio fisso di forze dell'ordine, stiamo richiedendo le telecamere che dicono che arrivano però di fatto non sono state ancora installate. Stiamo chiedendo una serie di colle, tra cui la messa in sicurezza dei garage, che ricordiamo, grazie alla nostra pressione, abbiamo fatto rimuovere le carcasse delle auto abbandonate da anni. Ecco, noi ne abbiamo parlato anche con l'assessore alla sicurezza Zandonella. Si sta comunque instaurando questo rapporto di collaborazione con i cittadini che sono invitati a segnalare? Allora, da un lato sì, le istituzioni sono collaborative nei nostri confronti e nei confronti dei residenti perché hanno accolto varie richieste. Sono stati spostati i bidoni dagli androni, sono state rimosse le auto, sono state fatte una serie di piccole cose, però servono dei passi ulteriori perché purtroppo la questione sicurezza siamo ancora molto distanti come rapporto di collaborazione. Quindi se riusciamo a fare dei passi in avanti entrambi per l'installazione di queste telecamere o dei presidi fissi, i residenti sicuramente riprenderanno fiducia in chi amministra la città. La prima cosa, servono le telecamere? Avete avuto qualche promessa in questo senso, qualche indicazione sui tempi? Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto delle dichiarazioni un po' discordanti perché hanno detto che le telecamere sono in procinto di essere installate e che non serve l'assemblea condominiale. Poi leggiamo sui giornali che non le installano perché serve l'assemblea condominiale. Poi di nuovo una smentita, quindi non capiamo quali siano le tempistiche perché poi una volta installate le telecamere per fare tutto l'allaccio con la connessione e quant'altro servono ulteriore tempo. Quindi di tempistiche certe non abbiamo, però temiamo che siano ancora molto lunghe. Quindi per conoscere anche queste procedure serve un tavolo d'incontro dunque con le istituzioni? Sì, avevamo fatto un tavolo tramite la videoconferenza visto il periodo con l'amministrazione. Era stata invitata anche Acer appunto per discutere di ciò, però per un problema tecnico probabilmente non sono riusciti a presentarsi e quindi rimanderemo la questione a più avanti. Quindi insomma se potranno porre queste domande anche a chi di dovere torneremo sicuramente ad occuparcene. Intanto un grosso in bocca al lupo a tutti i cittadini di queste zone sperando insomma che questa persona si fermi insomma nel danneggiare le cose altrui. Grazie per la testimonianza. Grazie a voi per l'invito. Grazie a Manuel Radaelli per essere stato ospite di Radiosound Piacenza 24, il presidente del Comitato Rete. Grazie a tutti.